Parlare di pace attraverso l'arte, attraverso la cultura. In un momento particolarmente delicato per l'Europa è ancora più attuale la rassegna che è stata inaugurata ieri ad Atri, Stills of Peace and Everyday Life, frammenti di pace e di vita quotidiana, giunta la sua terza edizione. Una sorta di maratona culturale con 24 artisti, una rassegna di cinema d'autore e tanti art talk che hanno la Francia come soggetto principale. Primo appuntamento, due collettive, due mostre d'arte contemporanea da ieri e fino a domani curate da Claudio Pisano alla Cattedrale di Atri e da Antonio Zimarino a Palazzo Acquaviva. Abbiamo visto che gli artisti sono amalgamati in una maniera straordinaria e sono rappresentativi un po' di realtà italiane e anche sono di diverse generazioni quindi sicuramente una mostra molto ricca di stimoli, molto ricca credo di intelligenza, poi lo dirà il pubblico, però penso che darà parecchio interesse e parecchi stimoli intellettuali. Grandissima partecipazione, l'alto patrocino della Regione Abruzzo, la Fondazione Aria, la Fondazione Tercas di Teramo, poi abbiamo il patrocino dell'ambasciata francese, in Italia, oltre a tantissimi altri sponsor che ci danno una mano da anni perché questo progetto continui a migliorare e continui ad avere sempre più importanza. La cultura, lo scambio culturale è un elemento di pace in un'Europa che ha tantissimi problemi, è un'Europa che ha tantissimi problemi e che però con queste iniziative si ritrova, ritrova lo spirito vero, cioè lo spirito di stare insieme, di mettere insieme le migliori energie. Adesso ne parlano tutti, persino il governo ha deciso di finanziare le attività culturali insieme alle attività in difesa dal terrorismo, quindi in qualche misura Aria è stata un po' un'avanguardia perché già alcuni anni fa ha deciso di stabilire queste relazioni tra popoli molto lontani con questa idea di scambi di pace.